Questo è un impianto situato alla Terza in provincia di Taranto, è un impianto di compostaggio che tratta rifiuti organici di varia tipologia, dare compost, quindi trasformiamo rifiuti in risorsa e siamo un esempio concreto di economia circolare. Trattiamo annualmente circa 80.000 tonnellate di rifiuti organici, tra cui anche delle bioplastiche che tra manufatti e sacchetti rappresentano più o meno il 3% del totale del rifiuto conferito. Il circa 2% è rappresentato dai sacchetti, sia quelli per la spesa, sia quelli come contenitori per i rifiuti organici e invece circa l'1% da manufatti, prevalentemente stoviglia. I sacchetti compostabili sono stati un grosso vantaggio perché si comportano nel processo esattamente come rifiuti organici, quindi alla fine ce li ritroviamo come compost. In questo pianto viene conferito l'organico dei vari comuni limitrofi per circa 80.000 tonnellate. L'organico delle mense e cucine viene miscelato con gli sfalci e le potature, si ottene una triturazione, la massa viene strutturata e trasferita nelle cosiddette biocelle di compostaggio, in cui viene somministrata aria a queste masse. Il processo è assolutamente naturale, un processo biologico. Dopodiché la fase continua con una fase di maturazione, in cui l'aria somministrata viene ridotta. Alla fine di questo processo, che dura 8-9 settimane, si ha la cosiddetta raffinazione delle masse. Si separa tutto quello che non si è degradato da materiali di disturbo, che possono essere metalli, plastiche non compostabili, oppure del legno che deve ancora terminare il suo ciclo. Questo legno viene reintrodotto in testa al processo per ritornare alla fase di raffinazione. Da questa fase si separa il compost, che è un fertilizzante biologicamente attivo ed è pronto per essere utilizzato nei campi oppure per produrre altri fertilizzanti. Dal 1 gennaio è subentrato l'obbligo a introdurre questi manufatti o sacchetti compostabili nella filiera dell'organico. Dopo la direttiva SUP ci siamo ritrovati nei sacchetti, e non ce li aspettavamo, ancora dei piatti che sono in plastica convenzionale, che sono classificati come riutilizzabili, quindi evidentemente la legge lo consente, e il mercato li ha assorbiti, però per noi operatori di riciclo sono un problema perché il cittadino comune non li sa distinguere, quelli compostabili da quelli in plastica convenzionale riutilizzabili, e quindi spesso ce li ritroviamo nella raccolta. Le bioplastiche in questo processo si comportano come l'organico, quindi come una mela, come una buccia d'arancia, ovvero vengono aggredite dalla massa microbica, vengono degradate. Le bioplastiche rigide possiamo considerare che si comportino un po' come il legno quando non vengono degradate in un singolo ciclo, cioè vengono separate alla fine con legno di recupero per essere reimmesse in testa al ciclo. Alla fine del processo noi otteniamo un compost, che è un ammendante, un fertilizzante organico, è un equivalente dell'ectame, che è il primo fertilizzante della storia, che poi noi, al nostro interno, non sempre gli impianti lo fanno, abbiamo deciso di valorizzarlo, miscelandolo con altre tipologie di fertilizzanti, a dare luogo a una serie di formulazioni destinate a giardinaggio obbistico, a ortoflorovivaismo, agricoltura, sia convenzionale che biologica. Il nostro compost finisce nei campi, grosso modo dagli stessi comuni in cui viene effettuata la raccolta, perché è acquistato da agricoltori in zona, oppure può anche essere trasferito, se miscelato, ad altri fertilizzanti, in altre regioni, sempre per uso agricolo. In questo momento che c'è carenza di materie prime, e quando le si trova, hanno dei prezzi proibitivi, il compost, che è un fertilizzante organico, è veramente utile, quindi assume in questo momento, oltre che un valore ambientale, anche un valore agronomico, ma direi anche un valore economico e sociale. Questo è un esempio di economia circolare, quindi il cittadino produce un rifiuto, questo rifiuto organico viene utilizzato per la coltivazione dei nostri prodotti agricoli, questi prodotti agricoli finiscono di nuovo sulle tavole dei cittadini. È fondamentale che i cittadini imparino bene a fare la raccolta differenziata, però secondo me è altrettanto importante non generare confusione nei cittadini quando poi devono selezionare i rifiuti. Si deve capire benissimo, cioè fin dall'ecodesign, dal packaging, quali sono i rifiuti compostabili e quelli no. Grazie. Grazie.